Il terrorismo islamico nel mirino della giustizia. Stamattina all'alba scatta una grande operazione in tutta Italia. Le indagini della direzione distrettuale antimafia hanno colpito una rete di supporto a formazioni di jihadisti che combattono in Siria. Le fiamme gialle hanno arrestato 10 siriani accusati di far parte di un'associazione a delinquere a carattere transnazionale finalizzata al riciclaggio e all'abusiva attività di erogazione dei servizi di pagamento in Italia, Svezia, Ungheria e Turchia per un giro di denaro da 2 milioni di euro. Inoltre per due siriani è stato contestato il reato di finanziamento al terrorismo. Un indagato anche nel Vicentino a Gambugliano. Altri quattro militanti siriani e marocchini sono stati individuati e arrestati in Sardegna. Una ventina le perquisizioni tra Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna.